Il maresciano diceva ieri notte è scappato uno, mancava solo questo. Chi è? Chi è? Donna, ma perché non l'attacchi tu? Non ce la fai ad andartene, è vero? Non vedo l'ora che ce ne andiamo da sto posto. Mi pare che qua buttano giù tutto. La libertà è bellissima.